È stato bello avere il piacere anche dei miei compagni che comunque avessi preso io la maglia oggi perché durante l'anno lavoro per loro e ogni tanto quando mi capita di essere davanti sono contenti anche loro. Eravate d'accordo che avresti passato il traguardo? No, non eravamo d'accordo. L'anno scorso ho fatto la volata e mi hanno chiuso sulle transenne. Quest'anno sono uscito terzo all'ultima curva e poi i 350 metri ero davanti e ho tirato dritto fino alla fine. La sei giocata dall'anticipo, quindi? Esatto.